E invece tu? Io cosa? Se potessi andare ovunque, in un posto del mondo, tu dove andresti? Io vorrei fare parte di qualcosa di più grande. Amo questa risposta! Qualcosa che è duri, che abbia un significato, qualcosa di davvero straordinario. Sì! È scritto nelle stelle, e io sono una stella. Se avessi soldi, li spenderei solo per divertirmi, capisci? Non per cose noiose come le tasse. Voglio solo che tutti facciano sempre festa. Quando arrivai a Los Angeles, c'era scritto su tutte le porte vietato l'ingresso a cani e attori. Con me è cambiato. E ora? Tutti pronti per qualcosa di diverso? Tranquilo, tranquilo, signori. Sai che dobbiamo fare? Dobbiamo ridefinire lo stile. Mettere a fuoco quei sui, imprimerli nella storia, alzare lo sguardo e dire... Evviva! Io non sono solo. Sono in un mare di guai, Manny. Dobbiamo andarcene. Adesso. Il mio lavoro ha un senso. Dai! Ti credevi indispensabile qui? È più grande di te. Con aria! Che cazzo! È il posto più magico al mondo. Aprite le orecchie, tutti voi cazzoni che ve la tirate tanto! Chi vi vuole vedere lottare? Sono un cazzo di serpente! Cazzo sì!